ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un tutorial un tutorial per farvi vedere la mia nuova postazione nel senso diciamo non vedo un kaiser ma no vedete l'inquadratura della mia bella facciotta non ho niente ovviamente sul viso perché dobbiamo fare un make up e oggi ho intenzione di utilizzare la curly bubbles allora iniziamo prima di tutto mettiamo il coccatore negli occhi allora come vi ho detto ho cambiato posizione per quanto riguarda mi viene da ridere perché ho cambiato di nuovo posizione per l'ennesima volta perché volevo un'esposizione per quanto riguarda il make up e tutto diversa da quella che avevo prima in precedenza mi devo munire di specchietti di tutti i tipi di tutti i generi perché essendo che ho l'inquadratura un po lontana nel senso mi guardo tramite la televisione quindi tramite uno schermo uno schermo devo controllare se tutto va bene o no questo ovviamente è una prova per quanto riguarda il trucco diciamo da non da lontano perché la fotocamera è sopra e io mi guardo qua quindi così quindi devo accentrarmi per quanto riguarda l'inquadratura andremo a mettere l'ombretto questo qui della chico che il 167 è un ombretto vecchio panna di quelli vecchi va in poche parole e cosa andremo a fare andremo a fare un make up semplicissimo sinceramente non non mi va di fare un trucco elaborato e tutto perché essendo come primo video per quanto riguarda questa posizione ho paura che mi venga male o che non riesco a vedermi bene allora come ombretto di transizione io volevo mettere questo qui che è un ombretto di catrice che lo 03 berry tail non so se si si vede e che l'ha scritto un po particolare comunque è un ombretto tra il viole e il malva e lo voglio mettere come ombretto di transizione per diciamo la parte di transition allora perché vi dico l'ennesima volta che cambio postazione perché ho fatto un sacco di cambiamenti durante tutto questo periodo perché ogni volta non mi inquadravo bene non sapevo da dove girarmi avevo tutto quello che mi serviva ma ce l'avevo un po più lontana nel senso che io la maggior parte cioè la televisione come poi vi farò il video ovviamente la televisione io ce l'avevo in quella posizione là quindi quando incontravo qualcosa mi dovevo girare per vedere se l'inquadratura era buona oppure no invece in questo caso alzo gli occhi ce l'ho qua proprio qua di fronte automaticamente mi viene meglio mi viene meglio mi viene meglio inquadrarmi tutto questo l'ho visto tramite un video di una ragazza americana che ha fatto vedere la sua postazione perché lei si inquadrava così come sto facendo adesso io io adesso qua ho uno specchio ce l'ho proprio al centro del e voi nemmeno lo vedete perché con questa posizione voi non nemmeno vedete lo specchio che io sto utilizzando perché uno dice ma come fa se lei non vede nel senso che io senza occhiali non vedo bene la lontananza perché mi manca invece mettendomi così io ho capito che l'inquadratura è migliore quindi automaticamente voi mi vedete meglio e vedete anche come faccio con le mani perché non c'è niente che ci distrae tra l'uno e l'altro no io perlomeno ho pensato così allora adesso andiamo utilizzare la carly bible quindi quella di anastasia per quanto riguarda la nuova palettina anastasia a me non piace io sono andata ieri a vederla di presenza mi potete direla qualunque cosa cioè non mi dice niente non mi piace non mi piace assolutamente allora adesso andremo a mettere bible che è un malva marroncino e l'andremo a mettere qui nella piega per fare la sfumatura come si vede qua mi piace tantissimo questo colore e mi piace proprio la sfumatura che fa mi piace e niente ovviamente giù nei commenti voglio sapere come come vedete questo video se è meglio meglio se è migliore degli altri nel senso per l'inquadratura se le cose si vedono bene e tutto io ovviamente quando mi trucco mi trucco anche per me stessa però se faccio video e riesco anche a farvi vedere cosa faccio per me è un vantaggio in più non guardate qui ma avevo un puntino siccome ho riniziato la dieta e tutto e adesso ci sarà lo sfogo di tutto quello che ho mangiato in questo periodo e quindi c'è questo sfogo io di norma non ho mai brufoli perché non mangio prima mangiavo molti salumi adesso non più quindi ho soltanto questo allora adesso andremo a mettere un un po di correttore proprio al centro così da utilizzare un ombretto che è messo tipo quello glitterato e lo metto proprio qua al centro cioè che poi è più non è proprio centro centro perché poi all'inizio voglio mettere un'altra cosa così io voglio mettere questo qui che è mandala questo mandala mi mi fa pensare al cartone animato dei simpson scusatemi ma siccome tutti qua guardano i cartoni animati dei simpson quindi mi tocca guardare il cartone animato dei simpson allora andremo a prenderlo con un pennellino vediamo com'è perché ho fatto solo lo swatch una volta molto molto bello questo ombretto bello 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 ha delle sfumature molto particolari l'avrei messo sinceramente anche su tutta la palpebra ditemi cosa ne pensate degli ombretti di anastasia se vi piacciono non mi piacciono cosa ne pensate cosa cosa adesso all'inizio volevo mettere volevo mettere questo per essere più particolare però volevo aggiungere un ombretto che ho preso questo qui di shaka che è un ombretto che tutti ne parlano benissimo per quanto riguarda e quindi volevo vedere però prima controlliamo se l'ombretto è stato messo bene io faccio sempre questa cosa così con l'ombretto perché mi piace che quando io chiudo gli occhi non c'è quella divisione totale ma l'ombretto rimane tipo sfumato non so se rendo l'idea se rendo l'idea allora andremo a mettere questo ombretto proprio all'inizio dell'occhio ho difficoltà anche a prelevarlo sinceramente questo tipo di ombretto mamma mia me ne è caduto un botto mi ho messa tanta ebbene sì anche questo capita non so se vi piace a me piace perché si intona con la mia maglietta che ha questo filo dorato non dorato ha questo filo tipo luminoso ed è molto molto bella questa l'ho presa da non ve lo dico non ve lo dico perché dovete guardare il video all per quanto riguarda i saldi per quanto riguarda l'abbigliamento guardatelo e saprete dove l'ho acquistato il fatto del punto luce questo ha la colpa l'alizzi perché lei che ogni volta nei suoi video metti qualcosa di luminoso che bello che di qua che di là e quindi Laura è lei che mi sta facendo rincretenere ha la colpa è sua Laura sarebbe la amministratrice del gruppo allora ovviamente vi metterò il link per quanto riguarda il gruppo di telegram dove troverete tutto dalla cucina al make up quindi si come si dice si spazia con le possibilità di vedere video mi piace tantissimo questo gruppo è un gruppo molto particolare dove ridiamo sempre questa è la cosa che mi piace tantissimo parliamo anche di cose molto molto particolari però mi diverte è un gruppo che mi diverte tantissimo e mi trovo proprio bene in questo gruppo adesso andrò a mettere il mascara della essence ovviamente questo qua è la mascara della essence andrò a fare la base e noi ci vediamo dopo ciao allora vi faccio il riassunto di quello che ho fatto ho messo il mascara della essence sulle ciglia poi per quanto riguarda la base ho utilizzato la mia solita crema questa qua della saponaria mirtilla che è una crema viso ho messo il primer della essence questo qui che vedete sempre nei miei video e ho utilizzato il fondotinta della Fenty Beauty perché vi ho fatto anche una review allora io mi trovo bene con questo fondotinta il colore è giusto lo sto provando un paio di volte devo dire che non mi sta dando proprio tanto tanto fastidio però io l'ho applicato prima con il pennello di Wicon che mi è stato rubato in questo momento perché non lo vedo ce l'ho utilizzato un paio di minuti fa sì un paio di minuti fa non trovo il pennello della Wicon eccola qua ho utilizzato il pennello della Wicon come per mettere il fondotinta ma non so il perché non me lo dite ma io devo sfumare assolutamente con la spugnetta non ce n'è non ce n'è non ce n'è sennò io vedo la polverosità sul mio viso e non mi piace cioè io lo vedo il fondotinta quindi ho utilizzato la Beauty Blender per tamponare il tutto ho messo il correttore questo qui della Makeup Revolution sulle occhiaie nella colorazione C6 e ho utilizzato sempre la spugnetta ho utilizzato sempre la spugnetta e poi ho messo la mia solita cipria che è questa qui della Elf che sta per finire questa è l'ultima e niente stavo sistemando le sopracciglia non perché io le debba fare ma perché una ragazza mi ha fatto notare che è meglio cioè io l'ho visto in un video che è meglio togliere diciamo l'effetto sia del fondotinta che della cipria che rimane nelle sopracciglia specialmente chi ce l'ha forse tipo come le mie allora dopo aver messo l'Ambaradam andiamo a utilizzare un blush come blush io volevo utilizzare questo qui della NYX che è Ombre Blush nella colorazione 04 Move Me ovvio cioè potevo non prendere un move un malva questo è il colore e lo andremo a prendere dal solito pennello di Real Techniques perché sapete tutti che non riesco a non utilizzare questo pennello facciamo il sorrisino a me piace piace proprio perché vedete fa anche un leggero tipo contouring e mi piace come allora avete visto il video del gruppo di Antonella per quanto riguarda i profumi chi è amante di profumi cioè io immaginavo che in quel gruppetto c'era Fabiana perché ero sicura al 100% perché lei è amante di profumi di Antonella lo sapevo perché Antonella qui su Youtube è i consigli di Antonella 2 perché lei ha una patita di profumi e quindi sapevo che c'era che che l'ideatrice era lei immaginavo io ad esempio non partecipo non perché lo sapete io partecipo sempre nel gruppo di Antonella ma ovviamente per quanto riguarda profumi io ne ho uno e basta quindi era inutile farlo però ovviamente sono andata a vederli perché c'erano le altre ragazze che fanno parte del gruppo e mi sono piaciute tantissimo davvero belli quei video e ovviamente ci sarà anche la collaborazione non lo so se la vedete prima o dopo di questo video allora andremo a mettere un illuminante questo qui della Kiko ed è lo 02 Virtus Gold Rose ed è un highlighter ovvio che dovevo utilizzare questo mi piace perché non è un illuminante abbastanza sbabam come dice Fabi perché io sto uscendo ma non devo fare colpo diciamo su nessuno quindi preferisco diciamo essere più normale neutrale non neutrale normale perché allora a me piace quando si nota determinate cose e tutto però dipende dove devo andare scome devo andare anche all'ingrosso e io quando vado all'ingrosso dove ci sono persone che dire chiacchiere e tutto però voglio essere sì presentabile però non troppo esagerata adesso andremo a mettere un rossetto e qui casca l'asino perché mi serve una matita pura allora mi sono dimenticata di fare la parte sotto capita perché capita inutile capita allora la parte sotto io la andrei a fare direttamente con l'ombretto utilizzato per la sfumatura quindi quello della catrice e porto l'ombretto sotto così per congiungerlo a quello di sopra vedete congiungo questa parte qua me ne ero proprio dimenticata proprio sono andata avanti questo mi capita quando e tanto che non faccio video perché voi si li vedete a raffica tra virgolette ma era da un bel po' che non li facevo ok devo dire che mi piace questo effetto che c'ha la parte di dentro perché dà sul verde molto molto carino mi piace adesso andremo a mettere la matita labbra ballerina della pastello questo qua dopo aver messo la matita labbra ballerina che mi stava anche per cadere adesso andremo a mettere il rossetto questo qui della catrice sarebbe questo con la scritta qua nella colorazione 100 matte ed è questo rossetto questo qua ed è un nude che dà sul rosato allora ragazze questo è il make up finito a me piace tantissimo mi piace tantissimo come sono venuti gli occhi grazie anche alla palettina di Carly Bible 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 mi piace tantissimo questa palettina ancora ho utilizzato soltanto questi due ombretti ovviamente devo ancora swatcharla per bene nel senso per quanto riguarda il make up voglio fare altri look proprio per vedere come sono gli altri colori ho intenzione di utilizzare questo colore perché mi intriga tantissimo e questi due fantastici veramente fantastici allora io voglio soltanto sapere se vi è piaciuto questo make up scusate se ho il colore io quando metto il rossetto la maggior parte delle volte perlomeno all'inizio ho sempre i denti macchiati del rossetto comunque volevo sapere se vedete bene per quanto riguarda il make up se questa posizione vi piace di più delle altre a me piace tantissimo perché riesco a vedermi molto molto bene quindi mi piace questa cosa riesco anche a farvi vedere il make up in tutto e per tutto proprio per come cioè già si vedono benissimo anche i colori e tutto quindi mi piace questa cosa credo che avvicinarmi così tanto alla fotocamera per quanto riguarda il make up sia una cosa molto molto utile ditemi cosa ne pensate ditemi se vi è piaciuto il mio make up o non vi è piaciuto ditemi se avreste utilizzato qualcosa di diverso e che dirvi io ho messo qualcosa di nude perché ve l'ho detto sto andando all'ingrosso quindi non voglio cose particolari però avrei messo anche un lucido a labbra un gloss oppure una tinta labbra abbastanza provocante come il mio di solito allora questo è tutto per quanto riguarda il video io aspetto ovviamente i vostri commenti come vi dico sempre belli o brutti basta essere educati io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao